Il saluto musicale di stasera lo dedichiamo a un gruppetto di amici che da anni si riunisce qui a Casagliello a Natale per la visita al presepe col canto festoso della canzone di Capodanno e a Pasqua per gli auguri sotto l'albero di Pasqua con la benedizione della casa e dei presenti. Non potendo offrire vietanze per il corpo abbiamo pensato di offrirvi un cibo musicale che fa bene all'anima in attesa di ritrovarci nella convivialità e nella condivisione dell'amicizia. Alla dolce sentire di Ortolani seguirà la Tavan di Forè. Auguri a tutti. 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 Grazie 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 a tutti.